Assessore, finalmente anche a Teramo si iniziano i lavori per le prime colonnine elettriche? I lavori sono partiti ieri, come alle nostre spalle, su Via Pannella, ma per altri cinque posti, quindi pensiamo che le prime settimane di settembre possano essere già utilizzate, perché poi questa è una prima fase, poi anche ci sarà il collegamento diretto con l'energia elettrica, fatta direttamente da Enel, questi sono di Bicerge, che è la prima società che ha fatto una convenzione con noi per installare otto postazioni, ne facciamo sei subito, le altre due che riguardano Piazza Garibaldi e Teatro Romano, essendo zone vincolate, hanno bisogno di parlare della sua intendenza. A queste si collegheranno immediatamente dopo altre dodici postazioni di Enel X che vanno a prendere quasi tutta la città, ma anche San Nicolò, con l'atterrato, insomma anche alcune aree un po' più esterne. Questo per dotare un'infrastruttura ormai fondamentale, perché sappiamo che l'utilizzo dell'auto elettrica è sempre più attivo e sappiamo anche che ormai si va verso una limitazione totale delle auto a diesel e a benzina, quindi da qui ai prossimi anni speriamo che venga sempre più utilizzato, ma speriamo che questo poi si aggiunga a questa importante iniziativa dell'eco bonus fatta per i privati che permetterà a tutti i cittadini di potersi dotare di una wallbox su ogni abitazione per poter ricaricare direttamente la propria auto. Sono dei lavori che iniziano qui in via Pannella, su cui però c'è anche una riflessione in atto. Adesso c'è un senso unico, state valutando di tornare a un doppio senso di marcia? Sì, quello che è stata sempre una sperimentazione, questo senso unico, abbiamo visto che purtroppo il parcheggio posto sul lato est di questa via non è altro che una fonte di parcheggio selvaggio, purtroppo ancora, la presenza costante di un vigio urbano sappiamo non è possibile, anche adesso vediamo dei furgoni messi un po' come capitano, spesso il passaggio dell'autobus su questa via è segnato da blocchi e da ritardi che poi sono collegati all'università, ma c'è una situazione irregolare che purtroppo dobbiamo sistemare e stiamo ragionando, se farò tornare a doppio senso, ovviamente con una caratterizzazione precisa, puntuale e definita di dove si può parcheggiare o meno, questo per evitare appunto la sosta selvaggia.